Salve a tutti, la partita di domenica a Franca Villa Potenza è una partita molto importante sia per il Franca Villa che deve a tutti i costi conquistare quanti più punti possibili per evitare la lotteria dei play-out, per evitare ovviamente la retrocessione sia per noi del Potenza che abbiamo bisogno dei punti necessari per far sì di disputare gli ultimi turni in maniera più tranquilla per il Potenza è ulteriormente importante questa sfida perché ritengo che la concomitante difficile trasferta che la Cavese dovrà giocare sul campo del Nardò potrebbe far, in caso di successo dei Leoni potrebbe far aumentare il divario tra Potenza e Cavese e dare finalmente quel vantaggio rassicurante per il traguardo tanto agognato della Serie C io ritengo che il Potenza potrà giocare una partita aperta e sicuramente io sono convinto che alla fine la riuscirà a spuntare non ho mai pensato a Potenza-Franca Villa come un derby nel senso più acceso del termine ho sempre pensato a questa partita come a un incontro fra amici una squadra della provincia di Potenza che incontra il capoluogo una squadra della provincia di Potenza che incontra il capoluogo reduce da fasti di campionati ben più in alto qualitativamente parlando non lo ritengo un derby, lo ritengo una partita normale come tutte le altre certo con un po' di pepe in più visto che si gioca fra due squadre della stessa regione amo la squadra di Franca Villa, amo il paese di Franca Villa, amo la sua gente perché l'ho frequentato per diversi anni della mia vita conosco quel popolo, conosco l'abbondata anima di quella gente la predisposizione verso l'ospitalità, la bellezza soprattutto di quei luoghi del quale la nostra regione dovrebbe andarne fiera e quindi Potenza, anzi Franca Villa Potenza si presenta un po' come una partita dai due indiretti diametralmente opposti il Franca Villa tenta di uscire fuori definitivamente dalle zone che scottano da quelle che portano a diretto condatto con i tizioni dell'inferno il Potenza invece cerca ulteriori tre punti per raccorciare le distanze con il Do di petto che tutti conoscono con il nome di serie C in this life